Io vorrei farci un appello pubblico, abbiamo fatto più volte, possiamo sapere in modo molto umile e sommesso queste quattro banche a chi hanno fatto i prestiti che poi si sono rivelati deteriorati? Mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe saperlo. Non accetterà la magistratura. No, no, ma posso saperlo l'opinione pubblica? Ad esempio è uscito, mi sembra che sia uscita un'inchiesta giornalistica presa dalle inchieste sulle banche dove c'è di mezzo anche persone vicine alla famiglia di Renzi. Io vorrei saperlo, perché a quel punto se io salvo con i soldi pubblici degli istituti e magari questi crediti deteriorati che hanno fatto fallire, e queste banche fallire o meglio, hanno fatto salvare dal governo queste banche, sono vicine a un'area politica, a un mondo, a un mondo del clan, del giglio magico? Beh, vogliamo saperlo, perché allora là sì che c'è una seria responsabilità politica e devo dire anche per me. Allora, mi sembra dalle parole di Fennina che... Ma tu non mi sembra attaccare così di questo modo, ho fatto un decreto per istante tutto, che noi non abbiamo preso un euro di soldi pubblici, vergognati, ho avuto risultato un mezzo e mezzo. Non abbiamo utilizzato un euro di soldi pubblici, non abbiamo utilizzato un euro, voglio un miliardo e mezzo, quindi rispondi delle vostre responsabilità.